Musica 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 Alte di livello di danno Infatti è veramente A colpo mi sa che dovrebbe fare sui 30-35 Una roba del genere Coltello lui scusi permesso No no ce n'è un altro la no ci siete troppi Ah scappo in macchina Dovevo prendere la macchina e andarmene E se non mi sbaglio dovrebbe fare intorno ai 35 punti danno Adesso sinceramente non mi ricordo nemmeno più Possiamo guardarci subito ragazzi giusto per quelli che Eh voglio sapere di tutto quello che fa La sua scelta Si fa intorno ai 30 punti danno a proiettile Quindi vuol dire che con un'ottima Scarica di colpi pari a 3-4 colpi Neanche sul corpo Di un malcapitato dovrebbe finire A terra e poi è Molto bella da utilizzare sinceramente In no scoop Cioè senza mirare trascinando solamente L'arma vedete in questo modo e colpendo Chi c'è c'è oddio mi sparano di già Devo scappare io ho paura mamma aiutami Mamma aiutami te ti prego aiuto Lancio una mina vediamo se riesco a fare il trappolone Oh si 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 l'ho fatto al vada doppia Oddio si sono riuscito Beh questa qui è una mia tecnica personale Cioè quando io mi sento inseguito Col supporto lancio dietro di me Una mina anti tank che fa il suo sporco lavoro Mio dio E' sempre stata così funziona ancora Bellissima No e quindi ragazzi sinceramente Il mio voto su questa Versione di mitraillatrice Cambia molto perché Il modello base E' veramente veramente Difficile da gestire Sia per il suo basso Bassissimo rato di fuoco Che la poca visibilità Che gli dona il mirino in ferro Ma Con l'ottica Cambia totalmente Veramente avete già visto che Comunque è un pochino più naturale Utilizzarlo Lì c'è un cararmato nemico Madonna come cazzo Oddio ma Mi si è piegato tipo addosso Ma sta facendo tipo Oddio se riesce a rianimarmi il medico A parte che sono volato via io Appunto Oh aspetta No ho fatto una cazzata Forse non ho fatto una cazzata Oddio i bombardieri Oddio Mamma mia Ok Avete visto effettivamente di che cosa stavo parlando Ok l'ho ferito No No Aspetta proviamo a fare Un attimo Scappo Se riesco a uccidere giù il nastro Sarebbe stato bellissimo Io ti giuro Andavo in brodo di giugiole Andavo a comprare Oddio Ah Il carro Scappate Scappate Ah Oddio no veramente A parte che purtroppo siamo entrati in una partita Che è Molto 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 squilibrati Cioè stiamo perdendo di 200 punti Veramente Posso cambiare squadra Perché sono un figlio di puttana E voglio andare a vincere Tipo No Guardate Mi sono spawnato di fronte a un medico Si può Una roba del genere Sinceramente No Il medico scappa Uff Aiuto come fa Oh mi puoi dare le cure Grazie La cosa bella è che posso curarmi con il kit medico nemico Almeno quello Ah Bene bene Almeno Oh no No basta Basta quel carro armato Oddio Oddio Mi stai seguendo quel carro Il carro mi vuole uccidere Vabbè poi contro uno con l'automatico È praticamente una partita persa Purtroppo col suo shot Perché Ha un ottimo livello di danno Ma possiamo ben capire che con un ratio di fuoco così lento Cioè Non puoi nulla Contro chi ha un ratio superiore Tipo ai 30 colpi al minuto Una roba del genere Oddio Sono soprano sin chamond E ne stiamo anche beccando Ma perché poi Dove Dove sarebbe nascosto il Là c'è un cecchino Prima di tutto Quanto vedo L'ho perso Non ci vedo più E quello però è un medico Quello che mi spara Attenzione Oddio L'ho ucciso Ok non so Tipo le mie granate su Battlefield 1 Ragazzi Che cosa sono Cioè veramente Sugli altri Battlefield Era una cosa impossibile Uccidere qualcuno E guardate No Cosa Il modello Ti prego medico Grazie Veramente Ti voglio bene Ah ma il modello 10 pallottole Oddio è un fucile di satana Uccidetelo Uccidetelo Lo voglio uccidere L'avete ucciso Bravissimi ragazzi Così si fa Oh c'è un medico dietro Eh un medico scusate Un cecchino dietro alla pianta Dietro ai carcassoni Oh scusate ma io sono Madonna che brutta persona che sono Perdonatemi ragazzi Cioè ho fatto 5 Oh madonna Mille punti così a gratis Perfetto Mi piace Mi piace Andiamo di qua Oh 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 Ah ma aspetta sei un alleato Scusami perdonami Non volevo fare una puttanata Perché se c'era poco amico eri fottuto Ti avrei ucciso tranquillamente un mio alleato Tieni Munizioni Non le vuoi Però so che Taktos Taktos Come cazzo ti chiami Vieni qua Taktos Taktos Vatti darei munizioni Che sono tuo amico Vieni qui Vieni qui Taktos Non sfuggirmi Oh Oddio La vita di supporto è difficile ragazzi Tenete tenete Prendete Finchè Cioè lui sta girando con la balestra A lanciagranate Mamma mia Comunque ragazzi Anche dalla distanza Se voi sparate monocolpo Si gode Cioè vedete Riesce a raggiungere rapidamente il bersaglio Il colpo Non è lentissimo Quindi vi permette anche di avere una buona precisione Della lunga distanza Non so se i colpi arrivavano da sotto al ponte Probabilmente si Infatti là ce n'è uno Ed è un medico Però mi arriva anche da sopra No non mi arriva da sopra Da dove arrivano i colpi Sai che non ho ancora capito se arriva Noi madonna Ma c'è anche un cecchino dall'altra parte Madonna Guardalo Guardalo Madonna 67 di danno con cosa? Tre proiettili in poche parole Oh C'è chi è in corso L'han preso Io direi di Oddio Oddio L'ho lanciata la granata Penso di sì Oh No Non esplosa Non esplosa la mia granata Ah forse non l'ho innescata del tutto Peccato Comunque ragazzi Come ultimo discorso del video Perché tanto io ci tengo a fare i video in cui vi parlo anche di cose così È triste vedere tipo gente che dice che su Battlefield vince chi tipo fa i tornei O comunque gente che gioca per fare le classificate o quelle cazzate lì che sinceramente non capisco dove sta il divertimento In quelle persone che boh stan lì per tirarsi le madonne adosso Perché sinceramente fare le classificate o comunque i megatornei ok Per le persone planco il Oddio 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 Ma che cazzo è? Ci siamo glitchati What the fuck? Oddio l'ho ucciso Come cazzo ho fatto ucciso? No Il mio aereo è cascato in testa uno Giura Giura Oddio davvero No vabbè è successa una cosa da Game Sprout Fantastico Comunque sì ragazzi Per me personalmente io gioco per divertirmi E comunque so di avere un'ottima abilità Poi tipo la gente che purtroppo deve fare soltanto dei paragoni Perché dice ah è più forte lui perché fa i tornei E' un poveretto Alla fine un cavallo Ah non mi hai preso sfigato Adesso ti uccido anche E' esploso in aria il cavallo Cioè il cavallo è diventato un macinato misto Cioè praticamente non è rimasto nulla E purtroppo ragazzi veramente la partita è andata a merda Perché siamo in una squadra molto 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 sfigata Dio mio guarda che roba C'è gente che sta dietro ai fuchieni Non so che ne hai bisogno Lo so grandissimo E quindi appunto ragazzi Non sopporto la gente che deve fare paragoni così Non so ma ci trovate gusto per fare paragoni con tipo altri youtuber O altri giocatori che barra barra sono bravi Solo perché tagliano le parti dei video in cui muoiono Punto di domanda Probabilmente sì E' un dato di fatto Si vede che quello è divertimento Mentre divertimento per me può essere condividere un gameplay come viene viene Perché quello vuol dire sapere avere anche tipo l'umiltà Di mostrare che tranquillamente muori Nonostante in alcuni video magari dimostri di fare il culo a metà squadrone nemico Però sono dettagli giusto ragazzi Quindi che dire ragazzi Spero che questo video live commenta Su modo di Battlefield 1 Sulla mappa breccia Vi sia piaciuto Qui su dei shall not pass Ricordiamo sempre che l'espansione ragazzi Oh mio dio c'è il cecchino L'espansione arriva il 28 Per chi non è un membro premium E dovete pagare se non mi sbaglio 15 euro per acquistarla Quindi per chi è interessato a provare Quindi per la prima volta l'espansione francese Così sbloccare tutte le armi del DLC Dovete acquistare il DLC stesso Mi pare anche ovvia la cosa Comunque ragazzi Detto questo noi ci vediamo al prossimo video Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale Per continuare a seguire nei futuri video di Battlefield 1 I live commenter, i tutorial Le future live e così via discorrendo Lasciate un mi piace unicamente solo se Il video vi è piaciuto realmente E vi invito a condividere questo video Sui vostri social network Per aiutare il canale a crescere E basta Adesso a momenti mi sa Ma mazza Madonna ma che cazzo NICARRI PESANTI Madonna E niente ragazzi No ci vediamo alla prossima Oh yes bitches Oh yes Madonna è Saint Chamond Poverino Cioè sta beccando Ah no non è Saint Chamond È il Char 2C Perdonatemi Perdonatemi